Senti, ma il giudice è più tranquillo e il giudice che invece ti ha fatto disperare di più? Allora, quello che mi ha fatto disperare di più sicuramente è Cannavaciuolo, perché ovviamente siamo due persone completamente diverse e quindi farmi fare un complimento proprio sudato e faticato, perché ogni piatto che gli portavo aveva sempre qualcosa che non andava. Poi non si è sentito, però ovviamente il piatto lo assaggiano tutti e quattro i giudici, poi per tempi e tutto lo tagliano. Però ogni piatto aveva, qui manca questo, qui manca l'altro, qui aveva sempre, dicevo cavolo, non gli va mai bene niente. Quindi lui è stata una battaglia e poi sono riuscito a conquistarlo. Infatti alla fine i due o tre piatti ultimi l'hanno poi lasciato senza parole e mi ha detto su questo non posso dirti niente e lì ero contenta. Bastianich ti ha preso un po' sotto la sua ala invece? Con Bastianich ho avuto molto feeling da subito, perché poi sono quelle cose a pelle. Una persona che invece sicuramente ho riscoperto è Cracco, nel senso che mi era abbastanza indifferente. Invece poi appunto lì a Masterchef ha seguito molto il mio percorso. Mi ha stimolato tanto, veniva a vedere, guardava cosa faceva, assaggiava e mi ha dato molta forza.